a casa di giovanni russo l'ultima intervista nel febbraio del 2016 giovanni qual è stato il tuo capolavoro barone contadini quello che in cui sono stato più capace di esprimermi sia sul piano letterario che sul piano giornalistico sia come impegno civile ecco con l'aspirazione a portare un contributo al rinnovamento della società italiana meridionale italiana ma poi ho fatto tante cose quindi io c'è una ventina di libri che ho pubblicato quindi giovanni russo abitava qui in piazza grazioni a roma in uno storico edificio al numero 5 ben 115 scalini per raggiungere la sua abitazione e poi ancora una rampa in discesa all'ingresso i suoi famosi cappelli nato a salerno nel 1925 da bambino si era trasferito con tutta la famiglia a potenza al seguito del padre funzionario del banco di napoli sono quelli gli anni della sua formazione al liceo ginnasio quinto razio flacco mi scrisse all'università alla facoltà di legge e mi sono laureato mi pare nel 47 poi ho cominciato a scrivere con l'italia socialista che era l'edizione del subito dopo la guerra dell'italia libera che era il giornale del partito d'azione e lì nell'italia socialista ho scritto i miei primi articoli tra cui un articolo intitolato mi pare la rivoluzione dei contadini in cui dicevo che i contadini avevano già fatto la loro rivoluzione emigrando già nel marzo del 1943 studente universitario aveva scritto sul settimanale potenza fascista l'articolo il valore della critica insieme a gian domenico giagni e arrocco scodellaro e poi io proseguito sono stato chiamato al mondo da pannunzio su segnalazione di carlo levi perché il direttore del mondo aveva chiesto a levi di fare dei nomi di giovani che potevano scrivere hanno fatto anche il mio nome in quell'epoca a tricarico c'era anche giorgio pecc si in quell'epoca c'era giorgio pecc a tricarico e c'era naturalmente rocco scodellare che io vedevo spesso a potenza soprattutto lo vedevo poi dopo rocco scodellare tra l'altro ricorda i bombardamenti di potenza tu eri a potenza io ero a potenza sono stato anche sotto un bombardamento purtroppo a potenza anche per aver bevuto acqua malsana ho perso una sorellina che è morta dopo che ci eravamo ricoverati nella galleria di santa maria di santa maria la ci fu il famoso episodio del colonnello faccini questo colonnello che si sparò salì sulla galleria e si sparò va bene quello si sparò ma io credo di aver assistito addirittura a questo fatto perché stavo affacciato lì a da lì si vedeva tutto il panorama la campagna eccetera e se di questo colpo di pistola e mi pare di aver di aver proprio assistito alla morte di questo colonnello coraggioso di potenza che ti ricordi quale sono i tuoi ricordi di potenza beh mi ricordo molte cose di potenza di cui ho scritto mi ricordo ovviamente il tempo che trascorrevamo sempre per via pretoria lo struscio e mi ricordo i rapporti tra tra potenza e materia che allora erano piuttosto difficili anche perché non c'era via di comunicazione molto facile e mi ricordo anche che c'era una vivace vita culturale di giovani a potenza e sotto questo aspetto devo dire che mentre a potenza c'era questa vivacità anche c'era però più ancora a sinistra a matera dove c'erano tradizioni socialisti abbastanza forti ecco lì c'era Leonardo Sacco tra i tanti no? Leonardo Sacco pubblicava già da allora la Basilicata che era una cosa abbastanza una rivista abbastanza importante e che si è affermata anche a livello nazionale come sta il sacco l'hai sentito? a casa pure lui non può uscire non può uscire pure lui e sta a casa anche lui è bloccato in casa eh sì sì senti Giovanni ma oggi possiamo dire che gli ultimi azionisti sei tu e Leonardo Sacco non ce ne so più eh no eh no eh no ultimi azionisti meridionali diciamo ci sarà qualcuno a Torino e anche a Roma ma io che significava? che cosa? quali erano gli ideali del partito d'azione? il partito d'azione fu fondato gli ideali del partito d'azione erano gli ideali che si rassumevano nel motto giustizia e libertà che era quello con cui anche gli antifascista democratici che non volevano riconoscersi né sotto leggi da comunista né sotto quella diciamo così democristiana diciamo erano quindi questi che avevano questa utopia diciamo di una democrazia laica e indipendente che assolvesse anche alla giustizia sociale e quindi noi cercammo un gruppo di giovani eravamo a potenza e venne a potenza a scovarci stranamente Michele Cifarelli che era allora ancora magistrato e che però organizzava il partito d'azione nell'Italia meridionale e venne e fondammo con lui il partito d'azione tu che hai conosciuto la Basilicata dell'immediato secondo dopoguerra e poi nel corso delle tue inchieste per il Corriere della Sera anche dopo negli anni 60, 70, 80, 90, negli anni 2000 che cosa è cambiato, che cosa non è cambiato quali differenze hai notato in positivo e in negativo ma guarda io ho notato in positivo diciamo il fatto che il progresso è avanzato in tutta Italia e quindi anche in Ucania quindi il progresso economico e sociale prima per esempio la retratezza sociale era grande io ricordo ancora non so come li chiamavamo a potenza i bassi dove i sottani i sottani dove si viveva con l'animale accanto praticamente l'asino e ricordo che questo poi è cambiato e poi ricordo che nella famosa inchiesta che fece fare Spadolini alla nascita delle regioni tu realizzasti un servizio dicendo chi vuol vedere il futuro della Lucania o della Basilicata deve andare in Val d'Acri sì perché probabilmente mi riferivo al fatto che in Val d'Acri si stava creando anche attraverso le cooperative una società diversa un po' nuova un più avanzata poi quando veniste a Roma chi erano i tuoi amici con i quali ti sei comunque visto? beh a Roma mi incontravo prima appena veni a Roma mi incontravo anche con Gian Domenico Giagni che ogni tanto veniva e poi con con poi cominciai a frequentare l'ambiente diciamo così culturale ero diventato amico stranamente io ero uno dei pochi che dava del tuo appannunzio che incontravo spesso anche Moravia incontravo Sandro De Feo Ercole Patti e li frequentavo la sera da Rosati in Piazza del Popolo o al Plaza l'Hotel Plaza dove facevamo la notte diciamo a Roma c'era la famosa libreria di via della Ripetta in via Ripetta dove si incontrava con Agnese De Donato questo diciamo anche Sinisgalli eccetera quello era molto legato a Agnese De Donato era legato a Sinisgalli tu su Civiltà delle Macchine non hai mai scritto? si ho scritto un articolo su Civiltà delle Macchine su richiesta proprio di Sinisgalli e un altro articolo lo scrisse anche bellissimo Michele Parrella come forse sai però Michele ne ha scritte diverse su Civiltà delle Macchine siamo negli anni cinque quando hai conosciuto Gerardo Guerrieri? ma Gerardo Guerrieri l'ho conosciuto a Roma proprio in quegli anni lì negli anni cinquanta cinquantuno e lui era non so se era fidanzato di Anna Proklemmer lo incontravo spesso a Roma la sera nei caffè ma poi dopo l'ho conosciuto anche nel periodo in cui lui si occupava molto di attività teatrale ecco quando è che sei entrato al Corriere della Sera? al Corriere della Sera sono entrato non mi ricordo mi parlo nel cinquantacinque millenovecentacinquantacinque fu assunto al Corriere e non mi sono mai più sono rimasto sempre lì ho perso un sacco di liquidazioni che potevo guadagnare in altri giornali perché mi ricordo che entrai a Corriere della Sera e che mio padre che non è che aveva così era contento ma voleva una sistemazione finalmente mi diceva è bravo è come se avessi vinto il concorso in magistratura all'epoca chi direttore c'era? all'epoca il direttore del Corriere chi era? Missiroli ecco Missiroli quando fu assunto ebbi un una specie di interrogatorio di Missiroli che ho riferito poi nel mio libro che adesso ti darò su mi pare i Cugini New York in cui io lui mi domandava mi interrogo mi disse mi dica innanzitutto cos'è il Corriere della Sera dico il più grande giornale quotidiano italiano dice no è qualcosa di mezzo tra la compagnia di Gesù e il comando generale dei carabinieri allora io scappai via da Pannunzio e gli disse sento io non ci voglio andare qualcosa e allora lui mi disse ma guarda che lui ha detto una battuta ma e mi disse di tornare di accettare e accettare il Corriere anche sul consiglio di Pannunzio e questo colloquio con Missiroli è abbastanza divertente ma adesso ti devo prendere il libro